Sarà la terza o quarta volta che sto registrando questo video, non perché non so cosa dire ma perché mi viene da ridere Ripensando alla punizione di Ebram all'ultimo secondo che si è voluto prendere a tutti i costi Come a voler dire adesso ci penso io, adesso la chiudo io E ha fatto un tiro incredibile che è uscito fuori, dallo stadio, fuori Cioè non so neanche se è rimasto dentro o è uscito Fatto sta che è stato un tiro, mamma mia, imbarazzante Tant'è che lo stesso Cristante l'ha preso per il culo e ha detto de poco fuori, l'hai messo de poco fuori Ok allora riprendendo un pochino di toni seri perché non voglio fare questo video in maniera totalmente ironica Voi sapete che quando parlo della Roma voglio cercare sempre di essere serio e di analizzare un po' quello che ho visto nell'arco della partita Lo sottolineo in quello che ho visto stasera Non mi mettete addosso delle parole che non ho detto come a dire tu affossi la Roma Tu sei uno di quei tifosi che ci marcia sulle cose negative Sapete quanto me ne frega delle visual quando la Roma gioca male e non vince o è in un periodo come questo? Niente, quindi voi lasciate perdere che avete completamente sbagliato persona a cui dire certe cose Non è un attacco verso tutti però ho ricevuto commenti di questo tipo che non mi hanno fatto particolarmente piacere Allora, la Roma chiude, credo, oppure no, c'è un'altra amiche di lui Comunque la Roma vince 1-0 contro il Casa Pia con un gol di Stefan El Sharawi Una partita dai ritmi chiaramente amichevoli più o meno Nel senso che chiaramente le occasioni sono state veramente poche Soprattutto per quanto riguarda quelle che abbiamo subito E le uniche cose che si possono segnalare oltre al gol appunto del Sharawi Purtroppo sono gli infortuni di Pellegrini e Smalling Su Smalling non si sa bene che cosa sia successo È caduto male, si è visto che un po' zoppicava Sapremo poi quello che si sarà preso Per quanto riguarda Pellegrini invece dovrebbe essere una contusione alla Tibia Non sono ancora esperto di tempistiche sotto questo punto di vista Ma credo che contusione non sia un stop particolarmente lungo Quindi può darsi che tornerà col Bologna Non lo so, speriamo perlomeno di avercelo per il Milan È stata una partita veramente noiosa Cioè non voglio usare termini volgari Ma è stata molto noiosa Soprattutto nel secondo tempo Nel primo tempo ho visto una Roma abbastanza agguerrita Nel senso che comunque abbiamo provato a creare diverse opportunità El Sharawi oltre al gol ha sbagliato due occasioni facili facili In una poteva servire bene Zaniolo Nell'altra solo davanti al portiere l'ha messa a lato E poi alla terza finalmente è riuscito a metterla dentro Ovviamente come dice il mio buon collega aspettando il tattico El Sharawi è il re dei gol inutili Però a parte le cavolate Comunque sono contento che si sia fatto notare in mezzo al campo È sicuramente stato uno dei più volenterosi Sebbene anche tre più imprecisi E questo purtroppo è un problema che si è visto anche stasera Ho fatto i miei video analizzando la rosa della Roma Guardando ogni singolo reparto e dandovi la mia opinione Ed è evidente che ci manca qualcosa non solo a livello di costruzione di gioco Ma anche finalizzativo Perché oggi comunque le occasioni le abbiamo create La difesa del Casapia non è stata certo impeccabile Anzi soprattutto nei primi 45 minuti ci hanno lasciato veramente tanti spazi E una squadra magari più agguerrita O semplicemente in una partita un po' più importante Probabilmente due o tre gol sarebbero stati segnati Diciamo che loro non sono stati perfetti E allo stesso tempo però noi ci abbiamo messo tantissimo per concretizzare Abbiamo segnato praticamente alla terza o quarta occasione Quando veramente El Sharawi era lì in mezzo all'aria E tra l'altro c'è stato anche un piccolo errore del portiere A parer mio che non ha trattenuto il tiro Anche se lì comunque ci sta dare i meriti a El Sharawi per il tiro E la giocata fatta in mezzo all'aria Questo come ho detto è uno dei problemi che ho notato di più questa sera Perché nel secondo tempo poi non è creato praticamente nulla Il Casapia ha fatto praticamente 10 undicesimi di cambi Tu hai cambiato fino a un certo punto Probabilmente perché comunque ci stiamo avvicinando all'inizio di campionato Contro il Bologna E quindi magari Murigno ha voluto vedere un po' i giocatori per più tempo in mezzo al campo Ma veramente nel secondo tempo c'è stato poco da segnalare Io per rendere la cosa più professionale ve lo faccio vedere Così non vi nascondo niente Qua sopra ci sono gli appunti di Giuliano Crotone Vi ricordo che faccio commenti per la casa di C Se ve li siete persi vi lascio il link magari nel primo commento Oppure se li volete basta che me lo scrivete Detto ciò mi sono scritto gli appunti qua Avevo scritto 3-4 righe del primo tempo e poi al secondo partita noiosa Quindi veramente non ho trovato niente da dire Se non appunto la bellissima punizione di Ebram nel finale Che mi ha lasciato a dir poco sbigottito Parliamo un pochino della formazione titolare Non tanto per quanto riguarda i giocatori Quanto più per il modulo Roma che ha giocato con il 3-4-1-2 Ancora una volta quindi non c'è stato questo passaggio al 4-2-3-1 Vedremo se arriverà in partite ufficiali Oppure se non cambierà nulla in termini di posizionamenti in campo Hanno giocato praticamente buona parte dei titolari Perché se andiamo a vedere è vero C'era Svilar che non ha preso gol Perché chiaramente non ha subito tiri Se avesse preso gol stasera veramente c'era qualcosa di grave Difesa titolare Quindi comunque hanno giocato tutti loro Poi è entrato anche con Bulle Sono contento perché merita un minimo di minutaggi in più Poi Selic, Zaleski Che possono tranquillamente essere considerabili titolari Sebbene Spinazzola comunque abbia ancora qualcosa da dire Se dovesse ritrovare la forma migliore Pellegrini, Zaniolo e del Sharawi Manca Dybala, manca Ebram Ma possiamo dire che l'inglese ora come ora Con tutto il bene che gli si può volere Non è tanto una mancanza Che cambia effettivamente le cose in mezzo al campo E quindi ecco comunque a livello di giocatori Hanno giocato prettamente i titolari Questo perché appunto la Roma deve ritrovare la forma E le idee in mezzo al campo In vista delle partite ufficiali che andremo ad affrontare Però non si è visto ancora una volta questo gioco sfavillante Possiamo dire che oggi rispetto al Cadice Se non altro abbiamo onorato di più la partita Poi sì, qualcuno mi ha ricordato Durante la recensione di quella partita Che giocavamo in dieci dal trentottesimo del primo tempo Però tutti quanti avete massacrato Vigna Per le sue prestazioni, per quello che ha fatto finora Un Vigna in meno doveva essere un vantaggio È vero che era anche un uomo in meno Però si poteva fare tranquillamente meglio Credo che una Roma in dieci sia comunque più forte O comunque sia una squadra che può battere la diciannovesima della Liga Ripeto, magari forse prendo troppo seriamente le partite inamichevole Magari vedo un po' troppo puntiosamente, diciamo, gli errori Dovrei essere più leggero E lo so, non è per carità Perché le mie critiche si limitano a quello che ho visto Non è che io guardo quello che ho visto oggi Dico ok, faremo questo sempre O perlomeno, se lo penso, non è per oggi Ma è per una serie infinita di prestazioni mediocre Che la Roma sta facendo ormai da settimane Io ci tengo a sottolineare questo però Non voglio che voi pensiate che io voglia portare malcontento Malumore o pessimismo nell'ambiente Roma Se voi siete comunque ottimisti per questa seconda parte di stagione Beati voi, vi dico innanzitutto Ma poi siete liberissimi di farlo Perché io semplicemente vi dico le mie sensazioni Io sono sempre stato trasparente su questo canale Quando ero depresso ve l'ho detto Quando ho avuto dei problemi personali mi sono sempre confessato a voi Quando ero arrabbiato ve l'ho mostrato Chiaramente non per come lo ero al 100% Altrimenti mi avrebbero chiuso il canale già da diversi anni Però adesso cerco di essere un po' più equilibrato Non voglio però che si passi il messaggio Che io faccio parte della cerchia dei tifosi Che vogliono buttare giù la Roma E vogliono gettargli fango Perché semplicemente io guardo la realtà dei fatti È innegabile che la Roma abbia un problema nel costruire gioco Nel fare prestazioni di livello E quello che dico stasera si limita a quello che ho visto Ho visto una brutta partita? Sì Non significa nulla in termini di prosegui della stagione Di campionato, punti eccetera eccetera Sicuramente sì Però ecco io vi dico semplicemente quello che ho notato questa sera Quindi contento si fa per dire per la vittoria Perché comunque come a me da sempre fastidio vedere la Roma perdere Mi fa sempre piacere quando vince Però gli do la giusta importanza Sia chiaro Non è che adesso vado fuori a fare i festeggiamenti Avevo già pronto un inizio di video festeggiando Però ho detto vabbè lasciamo perdere Mò trash sì ma fino a un certo punto E quindi ecco Dovremmo fare un'altra amichevole Mi sa il 22 mi pare E poi credo che ci saranno le vacanze invernali Non lo so vabbè Dopo vedremo un po' quello che succederà E il 4 si tornerà in campo per la partita interna contro il Bologna Speriamo bene perché dobbiamo assolutamente dare una svolta alla nostra stagione E me lo auguro di tutto cuore Detto questo ragazzi vi invito a lasciare un mi piace Se volete supportarmi Per voi non è niente È un semplice click sul cellulare o sul computer Ma per me è tanto tanto importante Un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto Mi raccomando attivate la campanella Così riceverete le notifiche di tutti i miei prossimi caricamenti In descrizione poi trovate i link di tutti i miei profili social Se volete seguirmi anche là sapete che mi fa tanto tanto piacere Buonanotte a tutti se state vedendo il video subito dopo la partita Buongiorno se lo state vedendo il giorno dopo In sintesi Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi